Questa mattina giovedì 26 settembre due anziani coniugi sono stati trovati morti nella loro abitazione a Tarzo in provincia di Treviso. I corpi rinvenuti in camera da letto presentavano segni di arma da fuoco spingendo le autorità a ipotizzare un caso di omicidio suicidio. L'uomo aveva 90 anni e la moglie 82. Non sono stati riscontrati segni di effrazione o rapine escludendo l'intervento di terzi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso avvenuto probabilmente alcune ore prima del ritrovamento. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica e il movente del tragico gesto. Gli inquirenti stanno cercando eventuali lettere o biglietti che possano spiegare le motivazioni dietro l'accaduto anche se al momento l'ipotesi dell'omicidio suicidio appare la più probabile. Ulteriori dettagli emergeranno con il proseguire delle verifiche.